Corriamo ai ripari, leggendo e meditando la parola di Dio e facendo violenza al nostro corpo con astinenza e digiuni. Evitiamo grasse risate e non cediamo alla diabolica noia. È successo una cosa grave. Ma signora Maria... Quella è una setta! Farò l'impossibile. Perché il signore viene come ladro di notte. Senza preavviso. Buonasera. Ciao. Ci sarà pure una via legale da percorrere. Mi stai andando giù, giù, là su, fusta! No, non posso! Lasciami stare, non posso!